Intanto, insomma, urgenza, ieri mattina l'impresa ha iniziato a lavorare, ha continuato ininterrottamente, anche stamani abbiamo individuato dove è la falla. Purtroppo è nel tratto di vetroresina, è una condotta vecchia di 40 anni, e adesso si interverrà per sostituirla con politilene, così come tutti gli interventi che abbiamo fatto in questi anni. Vetroresina dopo X tempo non va più da nessuna parte, vale anche per la rete idrica di Bresciana. Noi contiamo che nel giro di due o tre giorni dovremmo, peraltro domani, domenica, la ditta continuerà a lavorare. Noi stiamo correndo contro il tempo, sapendo anche che di pari passo manteniamo sotto livello il funzionamento l'altra, perché se arriva un'altra bomba d'acqua dobbiamo essere accorti nell'avere quantomeno un'alternativa per spingere il più possibile le acque. A monte della via Marsala stiamo facendo monitorare tutte le caditoie, perché non ci vediamo in giro. Il problema delle acque quando via Marsala si allaga è perché arrivano dall'ex canale Scalarbrino, che è stato, disgraziatamente e in maniera criminosa, è stato seppellito nel tempo. C'è solo il tratto di erice, poi a Trapani tutte le strade riportano l'acqua, diciamo, in pendio verso via Marsala. Dunque stiamo monitorando anche le caditoie. Contiamo che all'inizio della settimana dovremmo avere qualche chiaro di luce, da questo punto di vista ricominciare a poco a poco con rendere fruibile la viabilità. Tanto per il resto sia gli impianti elettrici che quelli semaforici e poco a poco anche i DSL, in conseguenza del nubifragio che c'è stato, li stiamo ripristinando. Per metà settimana quindi potrebbe riaprire la strada? Noi stiamo lavorando per tentare di farlo prima. Torno a ripetere, la ditta oggi è sabato, continua a lavorare, domani è domenica e farà anche una parte di lavoro. Poi ci sono delle competenze, diciamo, un po' tecniche da un lato, la verifica, la sostituzione del tratto di questa condotta in vetroresina ammalorata. Per fortuna che due anni fa, siamo all'assessore romano, abbiamo fatto sistemare l'altra conduttura che abbiamo trovato invece ferma nel 2018. Dunque ci siamo un po' salvati perché se no avremmo in queste ore, in questi giorni, melmo ovunque, perché lì arrivano continuamente flussi, diciamo, fognari che vengono dall'abitato trapanese sopra via Marsala e così anche dall'abitato ericino. Stiamo correndo contro il tempo, se le condizioni meteo, peraltro, a tal proposito mantengono, io credo che prima di metà settimana dovremo farcela.